C'erano alcuni motivi in più per essere presenti ieri sera nel Salone delle Feste del Casino di Arco per la cena di gala dell'edizione numero 45 del Torneio Internazionale di Calcio Città di Arco Beppe Viola, riservato alla categoria Under 17. In primo luogo la partecipazione straordinaria di Giovanni Trapattoni. Straordinaria non perché in attesa, ma proprio perché il trap è una persona straordinaria per semplicità, immediatezza, capacità di comunicare al di là di una carriera immensa e lunghissima, sia da giocatore che poi da allenatore di alcuna delle più prestigiose squadre d'Europa. Un altro motivo per esserci era costituito dalla presenza di Michele Santoni, arcense di nascita, il quale dopo un lungo percorso nelle file dell'Ajax è approdato alla guida degli allievi nazionali della Lazio, in un settore giovanile tutto da ricostruire. Santoni ha sottolineato la sua emozione di poter tornare nel paese in questa veste, aggiungendo che la partecipazione al Beppe Viola è stato uno dei motivi del suo sì alla Lazio. Terzo e ultimo motivo, l'intervento di Franco Viola, dal quale molti si aspettavano notizie più precise circa suo futuro alla guida dell'organizzazione del torneo, ma che invece, come suo costume, ha parlato dei problemi che ogni anno, e in maniera sempre più massiccia, debbono essere affrontati e superati per gestire questa macchina sempre più complessa e costosa, e naturalmente della sua soddisfazione per esserne riuscito ancora una volta a superarli. Proprio per il futuro del torneo, che sta nel cuore di moltissimi arcensi, abbiamo intervistato il presidente dell'Unione Sportiva Arco, Roberto De Laurentiis, e il sindaco Alessandro Betta. Anche il mister Trapattoni ci ha rilasciato una dichiarazione. Franco Viola, lo storico organizzatore di questo torneo, ha dichiarato ufficialmente che questa sarà l'ultima edizione organizzata da lui e dai suoi collaboratori. Quindi, quale sarà il futuro del Beppe Viola? Prima cosa, non ci credo finché non lo vedo, perché penso che Viola abbia nove vite, quindi andrà ancora in là. Se poi dovesse cambiare, allora l'arco sarà pronto a riprendere in mano il Beppe Viola, che vuol dire che ci vorrà un gruppo diverso, ci vorrà naturalmente anche un progetto diverso, perché se cambia l'anima deve cambiare anche tutto il resto, e io credo che comunque lo porteremo avanti. È troppo importante un traguardo di 45 anni perché non si continui. Il torneo ha una vita lunga, 45 anni, grazie anche al lavoro di tanti volontari che ogni anno collaborano con l'organizzazione. Diciamo che quella è la forza vera, dovessimo pagarla questa organizzazione non sarebbe possibile. Nella stessa identica modo è anche un sistema che ha tutta la nostra comunità di lavorare insieme, quindi non c'è più distinzione tra arco, stivo, baone e le altre società vicine e più lontane e quindi è anche un modo per fare sport, quello che si dice sempre deve essere pulito e deve essere veramente di comunità. Questo credo sia la miglior declinazione possibile, credo che quella continuerà. Finché c'è volontariato ci sarà anche il resto della società. Il torneo Beppe Viola è andato avanti in questi 45 anni grazie anche ai contributi degli enti pubblici che a dire la verità in questi ultimi anni sono un po' calati. Voi avete intenzione comunque di continuare a stare a fianco al torneo? Beh, quello assolutamente. Il Beppe Viola è un patrimonio di questa città, di questa comunità, ma l'intero Alto Garda è l'edro. È vero, l'amministrazione economica non è facile e anche l'amministrazione comunale negli anni ha fatto mancare il sostegno economico piano piano. Questo è innegabile. Però l'amministrazione credo che possa esserci in tanti altri modi, cioè sostenendo le loro iniziative, dando anche propulsione, perché comunque anche una vicinanza, è vero che una pacca sulla spalla a volte non sempre aiuta, però credo che mi fa capire che un'amministrazione ci crede, che quella manifestazione vuole vederci in futuro, credo che dia quello che è il volontariato che ha tenuto insieme Beppe Viola la forza di andare avanti e che è quello un po' di quello che è il torneo, perché si parla di settore giovanile, quindi settore giovanile che è il futuro, il futuro del calcio. Quindi noi come amministrazione ci siamo, ci dispiace, però insomma la coperta si sta accorciando e bisogna tirare un po' tutti, quindi tutti insieme avanti. Visto che siamo nell'ambito, quanto ritiene importante il settore giovanile per il futuro del calcio italiano, internazionale in generale? Senza dubbio, diciamo che sono le piante piccole che cresceranno e visto anche oggi questo torneo e le squadre che hanno partecipato, anche la qualità di questi giovani, quindi credo che è auspicabile anche che il calcio italiano avrà sempre crescita e avrà sempre un suo valore, perché questi ragazzi hanno dimostrato anche oggi in questo torneo, come anche magari in altri tornei come quello di Viareggio, di avere delle grandi qualità e delle grandi prospettive. Auguriamoci che non si perdano poi per strada nella crescita.